Appassionati del Bologna, buon pomeriggio. Queste immagini vi arrivano in diretta dal campo Pinetta di Pinzolo, dove in conclusione del periodo di ritiro precampionato, la nostra squadra fra pochi minuti sosterrà il primo test amichevole della sua breve estate. Seguiamo invece il binario di destra con Juvarà, che cerca Palaccio al limite, palla a Barro e il piatto destro nell'angolino, vale il primo gol della stagione del Bologna. Arriva Dijks a sostegno, di prima intenzione al centro a cercare Soriano, ancora Barro sul pallone, Polli al limite, Palaccio sempre al limite dell'area, gran gol di Rodrigo. E addirittura va ad intervenire alla grande da Costa per togliere a miracoli la gioia del gol che avrebbe accorciato le distanze. Bello il servizio per Sansone che si invola, entra in area di rigore, affrontato va in uno contro uno, col sinistro salva tutto Liverani, grande occasione per Sansone. Attenzione a Vignato che ha ricevuto da Rocchi, vede, serve Sansone che entra in area di rigore, Sansone scarta Rizzo, poi davanti al portiere, l'appoggio per Rocchi, il salvataggio, ancora Vignato, azione insistita del Bologna, la conclusione Liverani alla garella. Vignato, l'altezza dei 20 metri, l'apertura per Kingsley, lato corto dell'area di rigore, alza la testa, il cross al centro, arriva Sansone che deposita a lato. Finisce qui, Bologna batte Feralti solo 2-0, termina il ritiro di Pinzolo con le reti di Barro e Palacio.